Musica Entrare nella cappella esistina vuota, solitaria, pone a contatto diretto, a contatto diretto con la storia, con la storia dell'arte. A che altezza stiamo? Circa 18 metri d'altezza. Cosa cerchiamo di fare? Di mantenere quello che i papi hanno voluto creare. Ogni volta che inizio un progetto ho un senso di timore. Nel museo si incontrano culture molto diverse. La cultura storica-artistica, la cultura umanistica e quella tecnico-scientifica devono assolutamente dialogare. È una gran responsabilità. A volte uno pensa se è degno. A volte uno pensa se è un progetto. A volte uno pensa se è un progetto. A volte uno pensa se è un progetto. A volte uno pensa se è degno. A volte un' bummi. A volte uno pensa se è un progetto. E poi un' progetto.